benvenuti a tutti amici di youtube e di inside the game siamo qui riuniti per una simpatica intervista speriamo sia simpatica mettiamo le mani avanti normale intervista normale intervista con Giacomo Cannelli Giacomo Cannelli che è insomma conduttore a current tv di una trasmissione Geek Files e di un'altra trasmissione Geek Retro che ha parlato anche più volte di videogiochi sì sono gli argomenti insomma rientra qualche volta un po' da dietro certe volte cerca di rientrare beh c'è stata addirittura una puntata che poi abbiamo presentato nel blog che è tutta relativa ai videogiochi di un tempo forse addirittura è sulla storia dei videogiochi sì abbiamo fatto una puntata speciale perché Geek Retro che è questo programma che comunque parte dal passato per arrivare al presente e poi vedere che succede dopo la prima puntata è stata proprio la prima puntata è stata quella la prima puntata è la sui videogiochi ho insistito tantissimo per questa cosa meno male che c'è qualcuno che insiste perché insomma se ne parla poco se ne parla pochissimo in televisione questa puntata era praticamente si partiva dai classici proprio da anzi da siamo partiti addirittura dagli oscilloscopi che si usavano queste prima si smanettava sui computer e si cercava magari c'aveva niente da fare ma facciamo ci avevo avventato sta cosa e si è andato a giocare poi piano piano si è arrivati a Pong si è superata quella fase da un chi come cominciano a uscire a fare i personaggi e da quello siamo arrivati a parlare fino a Heavy Rain che è stato un po' il fenomeno di quest'anno perché si poneva come film limite cioè come scusate film è un absurdo sproediano qualcuno ha detto è un film interattivo loro hanno detto no non siamo un film interattivo insomma questo confine che c'è tra videogioco e intrattenimento che fino a quel momento apparteneva solo al cinema cioè noi andavamo al cinema ci sentivamo con i popcorn e ci piaceva essere intrattenuti adesso anche i videogiochi qualche volta raccontano storie raccontano storie e qualche volta veramente ti metti quei popcorn e ci guarda che cazzo sto guardando e sto giocando non è che lo sto guardando beh certo devo dire che insomma il nostro ospite si tira proprio fuori le domande perché la mia prima domanda voleva essere sul tuo mestiere e sulla scena appunto televisiva che riguarda i videogiochi che è sempre stata molto scarna insomma io ho provato in qualche occasione a parlare dei videogiochi in televisione Rai Futura prima poi con 3 Minutes of Game te l'ho ricordo l'ho visto io lo vedevo L33T e insomma poi ho anche fatto una trasmissione che era fatta con un videogiochi ma che parlava di calcio fondamentalmente perché era semplicemente una partita sia GX di calcio e c'è sempre pochissimo spazio per i videogiochi quando se ne parla addirittura se ne parla male nei DG a porta a porta ne ha parlato malissimo Riccardo Schicchi che c'ha un alibi beh perché un opinionista di tutto rispetto per il mondo dei videogiochi adesso voglio dire che ha detto chi non lo conosce nel mondo dei videogiochi esatto e in televisione se ne parla poco Current TV ci ha provato Current TV è una rete giovane una rete che definirei anche un po' contro beh è molto diversa ha radici molto profonde nell'online nel mondo della rete nel senso che partiva da lì era lì che si muoveva era stata una delle prime che anzi forse addirittura prima di Youtube insomma si cominciò con l'idea del prodotto generato da chi ti guarda e quindi da questo contatto diretto con le persone e quindi la possibilità di interagire direttamente con lo schermo perché fino a un certo punto noi guardiamo la tv però guarda che stronzata che ha detto però non glielo puoi dire invece a Current si poteva cioè tu potevi commentare i video che andavano in onda quindi c'era un si potevano scaricare i video c'era già un podcast delle cose che si potevano fare quindi molto diverso cioè adesso ci sono arrivati quasi tutti perché poi se vediamo Mediaset Rai pure ha fatto un ottimo sito perché anzi veramente c'è uno dei pochi non so se l'hai visto il sito del Rai nuovo beh c'è un sistema di on demand insomma ci sono cose che funzionano però dieci anni fa questo è il problema vabbè ma insomma non giriamo da altre parti infatti ritorniamo al programma ritorniamo a videogiochi e tv videogiocchi e tv un rapporto da sempre conflittuale conflittuale io mi ricordo c'era un canale che mi guardavo quando c'avevo stream addirittura prima di che ci fu la fusione con Sky ah si 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 mi ricordo ed era un che programma come si chiama perché in realtà poi era un feed straniero perché non c'era nessun presentatore italiano non ce l'ho presente di base mandava un flusso di trailer dei videogiochi partite online registrate quindi programma straniero se non ti ricordi era games forse si chiama proprio qualcosa tipo games qualcosa non mi ricordo scusate se sono così poco preciso però ero c'è dieci o quindici anni fa chissò ricorda c'è già tanto che ancora mi ricordo questa cosa e io dicevo vedi però cioè sto in televisione mi guardo un trailer perché all'epoca poi youtube non era così facile vedersi i trailer quando scaricavo un trailer all'epoca non c'era perché youtube eravano a dover sì infatti no se poi se volete scaricare questo gioco è uscito nel frattempo era uscito il sequel e tu stavi ancora a scaricare il trailer del gioco quindi non si poteva fare non era fattibile il fatto che andavo in televisione era divertente perché comunque io qualche volta ci sono stato era proprio la base della tv cioè ovvero mandavano niente e tu guardavi niente però era qualcosa era un inizio che io ricordi ecco sperimenti erano come direi futura però in effetti non si è mai voluto veramente credere che l'intrattenimento videoludico sia un qualcosa che non è ah ma sono ragazzini giocano poi cioè alla fine non c'entra niente non è interessante ma poi che ci vuole a parlare di un videogioco non è così cioè adesso la Rockstar Games ha fatto vedere cosa si può fare quanto si può crescere ma ce ne sono tanti di videogiochi che hanno fatto vedere le potenzialità adesso mi è venuto questo perché stavo pensando a questo e perché perché ci stai giocando sto giocando a Red Dead Redemption sì questa è una droga mi chiamo Giacomo e sto giocando a Red Dead Redemption ma io lo vedo su Twitter l'ho fatto un attimo su Twitter vediamo Red Dead Redemption Trance cioè c'è gente che dice non vedo l'ora di tornare a casa per giocare a Red Dead Redemption è giusto è giusto ho messo a dormire due figli e adesso mi godo cioè qualsiasi fascia di età perché è vero perché è un gioco diverso perché c'è il free roaming all'ennesima potenza e quindi c'è proprio questa voglia di avere un'esperienza perché ormai molti giochi sono un'esperienza cioè io quando giocavo e c'avevo anche a Final Fantasy 7 uno dei primi gioconi proprio pregni di RPG adesso non so che ti fanno schifo gli RPG io JRPG in verità sono un po' sì però io perché sono un genere un po' rispettabilissimo perché tra l'altro è uscito io non sono un patito io sono una persona che molte volte si è appassionata tantissimo a un esponente di quel genere poi magari non lo continuo perché se mi chiedete gli ultimi 6 RPG JRPG usciti non ve li so dire chiaramente però all'epoca erano quelle classiche situazioni che vedevi che ci giocavano io me lo comprei americano all'epoca e pagai tipo 150.000 lire costavano quindi già pensate la follia in generale e all'inizio mi ricordo che il primo impatto con quel gioco fu totalmente non ci riesco a giocare mana che devo fare non capisco i galli non ci riuscivo a giocare poi però sono entrato dentro e lì quel gioco era obiettivamente un gioco enorme perché era un mondo beh certo ed era per me quella è stata la prima volta che entravo in un mondo videoludico serio enorme con personaggi che morivano e poi siamo arrivati ovunque poi siamo arrivati a Oblivion poi c'è stata Oblivion una follia è stata Oblivion quando ci ho giocato ho detto beh che viva fa posso vivere nel medioevo però con quello devi farlo io mi ricordo certe volte però a me quei dungeons casuali totalmente casuali mettevano l'ansia perché vedi questi che tu usciano fuori con queste freccette che ti tiravano tutte queste freccette io morivo sempre e dico porca miseria però quello online sarebbe fichissimo ad esempio beh c'è World of Warcraft o qualcosa di simile si World of War io World of War ti posso dire la verità World of War c'ho giocato solamente a casa mia amica io non ci ho mai giocato ci hai mai giocato no conosco i miei limiti so che se gioco World of War non mi sono mai provato in una situazione del genere io giocai al Dreamcast quando entro online i primi come si chiamava che gioco era che era addio fantasy star online fantasy star online comprai quello poi ce ne uscirono altri per giocare online ma quello era stato il primo che attaccavi la tastiera capito io avevo la tastiera io avevo la tastiera del Dreamcast a casa non ce fai niente c'è un attacco che non entra da nessuna parola l'hanno fatto solo per la tastiera non era l'USB capito vabbè la uso per il PC no la butti sta lì nuova spagnola poi perché in Italia non esiste non l'hanno mai distribuita immagino c'erano poche e io però per la prima volta sperimentare l'idea del gioco online con chiacchierata con persone nelle hub che si creavano però stiamo troppo divagando perché ora siamo arrivati anche al gioco online perché dopo la torniamo sui binari vai tv e videogiochi mi hai risposto o pensi di no tv e videogiochi secondo me io arrivo a cinema e videogiochi chiudiamo il discorso tv e videogiochi abbiamo detto se ne è parlato poco se ne parla poco e non è considerato un mercato io nella puntata dei videogiochi che ho fatto dicevo il mercato dell'intrattenimento è formato da più del 50% ormai è stato ufficiale ha superato da videogiochi cioè quindi come facciamo a raccontarci ancora che sono giochetti non è possibile c'è un mercato enorme potentissimo pieno di soldi da investire è più importante il cinema adesso sta puntando sul 3d perché non sa più che fare ed è questa è una storia già vista perché all'epoca negli anni 50 puntarono sul 3d perché la televisione sembrava una sorta di macchina mangia tutto e forse adesso i videogiochi sembrano un po' quella macchina mangia tutto e il cinema 3d è quella mossa per dire sì è vero stai davanti il tuo 40 pollici con un gioco strafigo però aspetta vieni a vedere The All in 3d che l'abbiamo fatto sei anni fa ma te lo riproponiamo aspetta che ci vediamo alla seconda puntata va bene grazie a tutti